Non è la prima volta che mi vedono con la barba, diciamo solo nel teaser Io è la prima volta che ti vedo con la barba Anche papà di Natale Non so se è un bel vedere Questa è roba mia Questo è un albero di Natale LED autocostruito Che già hanno visto nel precedente video ma che gli facciamo rivedere adesso Ma c'è stato già nel precedente video dove c'era questo? Sì, quello lì del Mola Mola Attenzione, è vero, sono completamente rimbecillito No, non ti preoccupare, hai mangiato troppi panettoni E l'età Allora Julius, perché siamo qui? Allora, siamo qui per farvi gli auguri di Natale No, perché questo per farvi gli auguri Per continuare a fare gli auguri di Natale Per continuare a fare gli auguri di Natale E per fargli gli auguri di buona fine e buon principio Perché questo dovrebbe essere il video prima di Capodanno Quindi è in quell'interregno tra Natale e Capodanno Dove uno tenta di riprendersi dai panettoni Esattamente Va bene E dal pranzo con i parenti Ma stiamo qui per? Che è molto più duro da riprendersi Duro, molto più duro Molto più duro da riprendersi Allora, Gold Note, eccolo qua IS10 Non mi sbaglio Non ti sbagliare Bel prodotto Ah, io sono molto contento di avere un prodotto Gold Note Sì Perché Gold Note Posso fare questo piccolo cenno Devi, devi È stato il primo prodotto che io ho recensito per audio review Nella fatti specie un giradischi che si chiama, perché lo fanno ancora, Mediterraneo Ok Bellissimo C'è un oggetto proprio bello Bello Al di là del fatto che era anche un ottimo giradischi Ma proprio bello Quindi azienda italiana Azienda italianissima Ismissima, sì Esattamente E molto votata alla, diciamo, produzione di alta qualità Con un occhio, secondo me, a una sorta di aspetto, chiamiamolo così, artigianale Sì Dove in qualche maniera viene sottolineata proprio l'abilità nel realizzare oggetti Che sono a valore aggiunto, ad alto valore aggiunto in termini di design, di manifattura e quant'altro E di prestazione E di prestazione, ovviamente Quindi, da questo punto di vista, secondo me, è una bella realtà, una bella azienda Che cos'è questo IS-10? Scusami Azienda che, peraltro, i numeri lo confermano, ottiene un notevole successo sui mercati internazionali Quindi Che cos'è questo? È un amplificatore con streamer incorporati Esatto, quindi è la soluzione all-in-one che propone la Gold Note E come dire, mettendosi anche loro all'interno di questo filone particolarmente fortunato in questo periodo Di questi prodotti piccoli, semplici da usare, molto efficienti e tutto sommato dotati di un buon rapporto presto prestazione Interessante notare che questo prodotto è anche pensato per una scalabilità Bravissimo Questa è una cosa importante Cioè, questo è un prodotto che ha una prestazione che adesso andremo a raccontare Ma che è espandibile E questo, secondo me, è una mossa molto intelligente E che lo distacca da tutta la diretta concorrenza che non ha pensato a Non credo Ho studiato un po' e questo è probabilmente l'unico che fa questa cosa Benissimo, la basta perché sennò il chiesa ci viene troppo lungo Troppo lungo Passiamo alla descrizione Ciao, ciao Ho usato led di colori diversi Sì Quello che avevo nei cassetti Vedi? Carino Ma quello è solo un interruttore on-off? Un interruttore on-off ma è staccato Ah, ok Però non c'è una programmazione No, no, no Per il prossimo Natale voglio la programmazione Va bene No, questo è fatto a flip-flop quindi è proprio grezzo Grezzo È analogico, questo è analogico Allora, veniamo a questo oggetto Scusate, è una piccola citazione Veniamo a questo oggetto 50 euro più IVA per il firmware Allora, veniamo al nostro prodotto che prima di tutto è un 2x, voglio dire la potenza 80 2x80 watt Su 8 e 4 ohm Il 4 ohm che attraverso un'uscita pin può essere sdoppiato mettendo un'altra unità che si chiama Dopo ve lo diciamo Dopo ve lo diciamo Dopo ve lo diciamo Si chiama dopo ve lo diciamo Esatto E quindi diventa una potenza di 275 watt per canale Esattamente PA10 EVO PA10 EVO che sicuramente sarà un amplificatore finale E questa è la cosa molto interessante che lo differenzia da tutti gli altri fondamentalmente Ovviamente stiamo parlando E a questo punto ve lo potete ben immaginare Date le dimensioni dell'oggetto Di un amplificatore in classe D Certamente Ora, siccome a seguito di una serie di ascolti Non dico che sono diventato un fervido sostenitore della classe D Ma comincia a starmi veramente simpatica Vi prego di evitare i commenti fra voi e voi Ah, la classe D No, no Assolutamente Assolutamente Io direi di abbandonare proprio la considerazione su che tipo di amplificazione è Perché se ti piace come suona bene Se non ti piace come suona appunto Senza stare tanto a vedere che cosa c'è nella scatola Allora, secondo me quello che è obiettivamente un plus della classe D È le dimensioni compatte Le dimensioni, scaldapoco, lo puoi mettere dappertutto C'è tutta una serie di vantaggi Se noi consideriamo questo apparecchio Questo è un amplificatore, un DAC, uno streamer Tutto di elevata qualità In una bellissima, veramente grana bella scatola Da 23 per 20 per 10 circa Quindi non è trascurabile questo discorso Quindi streamer, run ready Dal punto di vista della connettività Ha ovviamente la possibilità di collegamento con la rete cablata Come piace a noi Wi-Fi Come non piace a noi E come ancora meno piace a noi Bluetooth E soprattutto il buon Julius Sì, sì, sì Allora, come forse avrete notato Noi abbiamo fatto pochi giorni fa A una prova a confronto Presso l'auditorium Davanti a un pubblico abbastanza nutrito Di un ascolto appunto cablato Wi-Fi e Bluetooth Arrivando alla conclusione che Il Bluetooth va benissimo Ma va bene per un ascolto disimpegnato Se uno va cercando qualche cosa di attendibile E qui stiamo parlando di una macchina che l'attendibilità è in grado di darvela Utilizzare Bluetooth è un po' penalizzante È carino mentre stai cucinando Mentre stai con gli amici È ok Se però vuoi fare un ascolto di qualità È forse il caso L'amico che si collega con il suo telefonino Con le sue playlist e ti vuole far sentire una traccia Si collega al volo alla macchina via Bluetooth E questa cosa si riesce a fare Però ripeto Una macchina che ha un DAC che in PCM Arriva a 384 KHz Quindi insomma con tutti E permettimi per i fissaroli del chip Questa è una Sakika 64493 Esattamente 34 384 credo 32 bit 384 E per dire la tutta DSD 256 Quindi quasi tutto lo scibile Quasi sì sì Tutto lo scibile Spotify Spotify Connect Spotify Connect Title Connect Anche MQA Per chi Che non c'è più Ma insomma MQA Per chi ancora predilige questo tipo di ascolto C'è l'MQA Ma Giulio Ma il software è molto buono Software di collegamento dello smartphone Dunque Fermo rimanendo che La macchina è dotata di un suo bel telecomando Eccolo qui Bel telecomando pesante Pesante, grande e grosso È realizzato in plastica Ma questo È molto bello Non vuol dire È un bellissimo telecomando La macchina esce con un'app che funziona sia su iOS che su Android Quindi scaricabile dai rispettivi app store Che credo di poter dire è una versione customizzata e brandizzata di M Connect Perché assomiglia molto ad M Connect Assomiglia molto sicuramente dal punto di vista estetico Ma per fortuna anche dal punto di vista delle funzionalità Quindi è un'app estremamente ben fatta Dove i comandi sono tutti molto veloci Sono tutti molto reattivi E interfaccia ben organizzata Le cose si riescono a trovare abbastanza velocemente Mentre sto parlando Stanno scorrendo alcuni screenshot che abbiamo preso Per farvi vedere È interessante il fatto che la macchina è compatibile UPnP-DLNA Per cui nel caso specifico del nostro setup Ha visto immediatamente i due NAS che servono con Minim Server Però l'integrazione con Hobus nel nostro caso Perché quello che utilizziamo è immediata Quindi da questo punto di vista Veramente il tutto ha funzionato Nessun problema Senza assolutamente alcun problema Detto questo Per chi invece ha delle sorgenti di tipo tradizionale Quindi delle sorgenti di tipo linea Ci sono due ingressi linea Ai quali puoi collegare il lettore di compad disc Quello che puoi Quello che puoi Il televisore Assolutamente Quindi molto semplice Molto semplice e secondo me ben fatto E anche di questo vi facciamo vedere qualche particolare Il display della macchina Che finalmente posso dire una cosa? È fatta anche per chi ci vede meno Perché c'è questo grosso Noto che ci sono certi prodotti molto cari Che hanno dei display anche grossi Ma dove il volume è sempre piccolo Forse perché chi li progetta è giovane Allora secondo me c'è da fare un piccolo distingo Alcuni produttori Penso ad esempio playback design Sostengono E giusto o sbagliato che sia È una posizione Che un display a colori grande e grosso Possa introdurre disturbi Quindi loro ti dicono Io faccio un display a matrice di punti Microscopico Tanto non lo devi utilizzare Meno lo utilizzi è meglio E quello è un approccio Quello che io trovo fastidioso È il display OLED Microscopico Quindi che dovrebbe unire Entrambi gli svantaggi Sostanzialmente Questo è un bel display Che ha un'indicazione grande Soprattutto del volume Che poi è quello che serve La macchina può essere comandata Ed è evidentemente la soluzione più pratica Attraverso l'app Attraverso il telecomando E attraverso questo encoder rotativo Che schiacciandolo Consente di accedere alle diverse funzionalità Però ripeto È una macchina semplice da utilizzare Non è assolutamente cervellotica E secondo me Ha tutto vantaggio Della usabilità Adesso me lo dico Non lo so Perché questo non l'ho mai sventrato Vediamo se riusciamo a sventrarlo Ma è arrivato il momento È arrivato il momento Sì 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 Assolutamente Io non lo dico Ma mi sono fatto delle Forse film Ma delle idee Su cosa penso di trovarci dentro Ok Vediamo se corrisponde Ciao Caro Giulio La più grossa novità di questo Gold Note È il modulo di amplificazione in classe D Perché non è il solito ancora a cui siamo abituati Ma è bensì un Pascal Il Pascal U Pro 2S Che adesso mostro ai nostri failures Eccolo qua Eccolo qua Allora Eccolo qui È sistemato sopra Tra l'altro Un interno che poi commenteremo Molto molto denso di componenti Riesci a spostare un po' la luce Per illuminarlo meglio Sì Ecco qua Oh Eccolo che adesso si vede per bene Per bene Eccolo qua I Pro 2S Modulo stereo da 2x280W Credo Come specifiche Come specifiche Poi diciamo che nella accezione Del modello L'abbiamo detto prima Il vattaggio è differente Esatto Quindi questo è Sia Alimentazione a 220 Eccolo qua La 220 che arriva con il suo fusibile Sia amplificazione vera e propria Ok Ok E questo è un modulo che è sistemato A ridosso del coperchio Del coperchio Sì Quindi adesso noi ci giriamo invece E andiamo verso La parte Che sta sul fondo del dispositivo Esatto E la prima cosa che vediamo qua È l'alimentazione Un'alimentazione non solo particolarmente Ben costruita e generosa Ma contenuta all'interno di come possiamo vedere Un contenitore schermante in metallo Bellissimo lavoro Ok Io qua sto cercando di mostrare qualcosina Sì perché queste sono tutte le piattine con le flat con le uscite Vedi? Sì 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 Questo flat invece va Ai moduli Pascal Al modulo Pascal Ok Ok Poi questa è la scheda degli ingressi Che è a ridosso del pannello posteriore Che poi facciamo vedere e commentiamo Ok Amplificatori per cuffie che stanno qua sotto E so che a te le cuffie stanno antipatiche Ma noi No 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 Chiedate Esatto Questo c'ha C'ha uscita ad altissimo livello della cuffia Un volt e cinque volt Selezionabile sì Esatto Per poter adattarsi meglio ai vari tipi di cuffie Quindi per pilotare qualsiasi cosa Il modulo DAC è lì sotto E questo Un attimo che lo inquadra Per quello che si può vedere Esatto E poi questa suppongo sia Ma non ne sono certo Al mille per mille Ma secondo me è così Questo è il mini Il mini elaboratore Che serve per La parte streaming Tutta la parte streaming Sì Ti capito Questo dovrebbe essere un USB Se tu ci vedi meglio Da quella parte E potrebbe essere anche Il sistema Eccolo qua Per fare O aggiornamenti software Allora L'aggiornamento avviene over the air Eh ma magari qualche problema Se si blocca Per entrare direttamente Esatto Oh tra l'altro qui Lateralmente La sto inquadrando adesso Vedo che c'è uno slot Per SD card Esatto Che magari porta a bordo Il sistema operativo È probabile Molto probabile Va bene Va bene Guardiamo il pannello posteriore Così Certamente Ok Poi dopo Chissà se riuscirò a richiuderlo Caro Giulio Questo sarà Come sempre Come sempre La parte più emozionante Ecco qui Lo lasciamo così Bellissimi questi pin Questi sono veramente Molto 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 Belli Sì Assolutamente Sì Esatto Sono quelli Belli Diciamo da primi della classe Porta Ethernet Porta Ethernet Porta USB host Ok Poi c'è il connettore Che si chiama GN link Che serve per la sincronizzazione Dell'eventuale Secondo amplificatore di potenza Che viene collegato Sulla porta R Out Eccola qua Esattamente Che io inizialmente Mi chiedevo Che cos'è E serve esattamente A fare quel lavoro lì Che poi io Ci proverei anche A collegare un sub Sì no E ci provereste E avresti successo Perché nel manuale Lo dice Anche perché Scusami Dobbiamo ricordare A Follower Che fino ai 200 Hz Il segnale è mono Quindi hai lo stesso Identico segnale Su left e right Semplicemente In quel caso È dimezzato di livello Perché non è un mito E quindi puoi utilizzare Un solo sub Che fa da sommatore Esatto L'unica Piccola Difficoltà Che io ho avuto È stata Nell'utilizzazione Dei connettori Di potenza Perché sono effettivamente Molto ravvicinati Quindi con le bananine Dei cavi Che utilizziamo In sala d'ascolto Era veramente Al limite E riuscire a farli A farli passare Però penso che In una normale Condizione d'uso Problemi non ce ne dovrebbero Sì, comunque ci vogliono Le banane Perché anche Ammesso che Il cavo spellato Qua è praticamente Molto bello Molto molto difficile Da inserire Beh da inserire Senza fare Sì, senza fare Guai Ultima cosa I due ottici Due ingressi I due toslink Che stanno qui E lì E l'antenna Che ti piace tanto È che sarà È L'antenna Wi-Fi Bluetooth Assolutamente Va bene Ok Chiudiamo Che dici Ma dai Pronti Chiudiamo Chiudiamo No Parla prima tu Eh no Perché poi Sono sempre io Quello che Anno Perché secondo me Sono la tipologia Di apparecchio Più appetibile Oggigiorno Sì Per noi Per i vecchi audiofili Probabilmente no Ma per Attrarre Nuovo pubblico Al mondo dell'audio Esatto Secondo me È Veramente La formula Vincente La formula Vincente Perché Perché Non richiede Alcun tipo Di difficoltà Di configurazione Nel dominio Dell'analogico Cioè A me viene da pensare Questo Una Una persona Giovane Oggi È perfettamente In grado Avendolo fatto Un miliardo Di volte Di configurare Un device Informatico Wi-Fi Bluetooth Cavi Rete Quello che è Per cui Secondo me Quasi passa In secondo piano A meno che Non ci siano Degli errori Microscopici La difficoltà Di connettività Rispetto Alla rete Paradossalmente Essendo persone Più abituate A lavorare Nell'ambito Dell'informatica Che non Nell'analogico Potrebbe essere Più difficoltoso La configurazione Di un device Analogico Giradischi In primis Però qui Non abbiamo La difficoltà Dell'ingresso Fono Abbiamo due Ingressi linea Per cui Se comunque Vuoi Un domani Collegarci Un lettore Di compad disc Perché poi È a quello Che io Penso Più che altro Il tutto È estremamente Semplice Dispositivo Piccolo Molto bello Molto elegante Peraltro Le finiture Sono silver Nero E mi pare Oro Oro Anche A me Non piace Però Posso capire Per altri mercati Dove sono certo Che incontrerà Il gusto Di Di altri Tipi Di sensibilità Di pubblico E quindi Da questo punto di vista Secondo me È un prodotto Azzeccato E tra l'altro Mi piace Il fatto che Proprio come estetica Dell'oggetto Sia ben coordinato Con gli altri dispositivi Del catalogo Dal punto di vista Mio Quindi Diciamo Dal punto di vista Più tecnico Devo fare Un grosso Applauso Perché Anche su questo Canale Sono Abbiamo provato Tante cose Quindi Amplificatori Compatti Che dentro Mediamente Avevano Dei Dei chip Infineon O altri Che erogavano I soliti 50 watt Per due Con una potenza discreta Ma niente di che Questo qui invece Pur mantenendo Dimensioni Molto simili Assolutamente Molto simili È pieno Zeppo Dentro E ha un Modulo Di Amplificazione Molto potente Quindi è un Prodotto Compatto Ma al quale Sono stati dati Tanti muscoli E quindi Tanta Tanta possibilità Di pilotaggio Molta di più Di quanta Non è stata data A prodotti Più Più È anche vero Però C'è da dirlo Che costa 2850 euro Di listino Contro Altri prodotti Più economici Che costano Più o meno La metà Se vale la pena Spendere questi soldi In più Se lo chiedete a me Io vi dico Assolutamente Sì Perché Vi trovate Un prodotto In grado Di pilotare Qualsiasi cosa Anche Un Dei diffusori Da pavimento Piuttosto generosi Se poi ci mettiamo Addirittura L'amplificatore Esterno Arriviamo A Con 43 cm Avere Un network Player Preamplificatore Analogico E finale Di potenza Da quasi 270 watt Per canale Suo torno Quindi Non credo Che si voglia Chiedere di più Tu che ne pensi Giulio? Sono d'accordo Su tutto Una cosa Ho trovato interessante Per carità Non è che ci vogliamo Far belli Non lo dico Perché Anche perché fare belli Noi due No no Non lo dico Per suscitare Una indebita Ammirazione Quando L'abbiamo Cominciato a sentire Effettivamente Il suono prodotto Da questo Apparecchio Ci è sembrato Un po' Diverso Rispetto ai tanti Suoi Omologhi Come Diciamo Funzionalità Che avevamo Ascoltato Prima Ora L'istinto Era quello di dire Visto che sono Molto diffusi Sarà equipaggiato Con i moduli Encore Cosa che invece Non è E Questo fatto Si è In qualche maniera Ritrovato All'ascolto Suona Abbastanza Differente Rispetto a un dispositivo Con i moduli Encore Io direi Forse Quell'aspetto Iper velocistico Proprio Dei moduli Encore Qui Balsa meno Agli occhi Però mi sembra Un suono Molto strutturato Molto Ricco Armonicamente Privo Di ogni traccia Di secchezza E Quindi Come dire Quasi Per l'ennesima volta Che si fa fatica A dire Questo è un classe D Quasi Forse Mi si passi Il termine Che Qualcuno Riterrà Esagerato Esagerato Quasi un suono Verso Il valvolare Più 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 morbido Più arrotondato Meno Graffiante Meno Ecco Meno Che ti viene Addosso Quasi Ecco Che perde Quella 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 Traccia Di modernità Che molto Spesso Hanno tutti I moduli I moduli Digitali Ecco Mi è Proprio Piaciuto Oh Questo però Poi Ci porta Secondo me E io di questo Sono molto contento A fare Una piccola Riflessione E Fino a qualche Anno fa La Vox Populi Era quella di dire Ah vabbè È un classe D Neanche lo ascolto Tanto so come suona Poi può piacermi o meno Tornarmi come set Di funzionalità E di caratteristiche Ma dal punto di vista Dell'ascolto Ascoltato uno Gli ho ascoltati tutti Non sono convintissimo Che fosse vero Neanche dieci anni fa Ma Men che meno È vero Oggigiorno Cioè Tra questo E Un amplificatore Equipaggiato Con gli Ice Cube Bang e Olufsen Che io avevo Nei miei finali Che c'erano Qualche anno fa Gli Stellar Della PS Audio Bellissimi Ma suonavano In una maniera Timbricamente Completamente diversa Rispetto a questo Prodotto qui Quindi Anche Diciamo Rispetto a questa Oramai Non più nuova Tecnologia di amplificazione Assolutamente Prove di ascolto Vanno fatte Vanno fatte Per capire Per capire meglio Se è un suono Che va Nella vostra direzione Se è un suono E se è un amplificatore Che ben si abbina Ai diffusori Che avete In animo Di accoppiarli Quindi Se vogliamo fare La solita disamina Bassi Medi Alti Che piace tanto Ai nostri Possiamo dire Possiamo dire L'abbiamo Un po' Già detto prima La gamma Medio alta È una gamma Setosa Accogliente Direi Quasi amichevole Ecco Ecco L'abbiamo provata D'altro Con le Spender Il modello Non me lo ricordo Perché Quest'anno le A2 Le A2 Quindi delle casse Di livello Se non Qualcosina Anche in più Perché costano Oltre 3.000 euro La coppia Sì Potrebbe essere Un buon Match Diciamo Un buon match E gamma Bassa Perdonami Dal punto di vista Dell'efficienza Non riapriamo La polemica Che c'è stata All'epoca Della recensione Comunque Questi diffusori Sono dei diffusori Di efficienza Media Non altissimi Con un buffer da 16 Sì E sono stati Splendidamente Pilotati Dal Gold Note Sì Non si è fatto Nessun problema No Assolutamente E' riuscito a spremere Quello che c'era Da spremere Da questi diffusori Peraltro Vengo sul tuo discorso Proprio quella Gamma media Medio alto Quell'incrocio Insomma Medio alto Medio Secondo me Grazie anche Alle ottime doti Delle Spender Ha fatto un figurone Ha fatto un figurone Sì Era proprio Un bell'ascolto Che scivolava via Tranquillo Senza soffermarsi Tanto sul Però Sul Su Una traccia In DSD Una delle poche Che abbiamo sentito Poc'anzi Dove c'era Un tappeto Di archi Non avevano Neanche un filo Di aggressività Quindi anche Nel raccordo Verso la gamma alta Era assolutamente Smooth Come direbbero Gli angosassoni Senza Nessuna Come posso dire Essere eccessivamente Propositivi Che poi Quanto è Della sezione Di preamplificazione Quanto è Della sezione finale Perché poi mi ricordo Mi ricordo la prova Del Marans Per esempio Che aveva una forte Caratterizzazione Marans Passatemi il termine Aveva i moduli Encore Ma sembrava di sentire Quasi Un Marans Un Marans Dannata Quindi Questo poi Magari Tra le prossime cose Che ci daranno Da provare Ci sarà una coppiata Pre E finale Gold Note E quindi potremo Magari valutare meglio Il preamplificato Coerenza rispetto Alla sonorità Di famiglia Alla family sound Bravo Esattamente Il family sound Benissimo Allora Mi auguro Mi auguro che Come dire Sia il primo di Una serie di altri Gold Note Perché l'apparecchio A me è stato Sì anche a me A me è piaciuto molto Lo consiglio Vivamente A chi vuole Un qualcosa Di compatto Che fa tutto insieme E che ha Eccellenti doti Sia dal punto Di vista Della musicalità Che dal punto Di vista Del pilotaggio Scusami Prima di concludere Ancora Una piccola Annotazione La macchina Dal punto di vista Software Si è rivelata Molto stabile Si è fatta Un firmware update Appena l'abbiamo Collegata Quindi ha detto Ho bisogno Di fare un firmware update L'ha fatto L'ha fatto In pochi minuti Non ci sono stati Problemi di sorta Ripeto quello Che ho detto Nella presentazione La app Semplice Da utilizzare E quindi Da questo punto di vista Anche Tutto Eccellente Detto ciò Subscribe Campanella Mi raccomando Non è possibile Che abbiamo 6000 views Di media A video E A oggi Siamo a 3000 3500 2006 Non lo so Qualcosa Dateci una mano Ok Ciao 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 Ciao